Oggi ti svelo il trucchetto per ottenere una sbriciolata alla nutella super cremosa anche dopo la cottura. Dai, vieni in cucina insieme a me. Per prima cosa prepara la pasta frolla, quindi versa la farina su una spianatoia e unisci lo zucchero, il lievito, la vanillina e il burro. Lavora il tutto fino ad ottenere una sabbiatura fine, quindi rifai la fontana al centro e unisci l'uovo. Continua a impastare il tutto fino ad ottenere un composto molto bricioloso. Mettilo da parte e prendi uno stampo del diametro di 24 cm. Foderalo alla base con un foglio di carta da forno e versaci all'interno metà del composto di briciole. Schiaccia bene con le mani in modo da formare la base e farcisci il tutto con la nutella. Stendila lungo tutta la superficie aiutandoti col dorso di un cucchiaio e completa con le briciole rimanenti. Schiaccia bene in modo da farle aderire correttamente e riponi la sbriciolata in freezer a riposare per almeno un'ora. E' questo il segreto che farà sì che la nutella rimanga morbida anche dopo la cottura. Trascorso il tempo di riposo, inforna la sbriciolata in forno statico preriscaldato a 180 gradi per 40 minuti. Trascorso questo tempo, sfornala, lasciala freddare e spolverizzala a piacere con dello zucchero a velo. E... ta-dan! Ecco pronta la sbriciolata alla nutella, guarda quanto è golosa! Ti è piaciuta? Lasciami un commento! Grazie a tutti!